ma a che ora è? tre e mezza però? tre e mezza che poi in realtà sono due e mezza ma ci non mi passi male sempre camiseta come si chiama sta chiesa? vediamo se la sai della Ara Coeli bravo, infatti questo si chiama piazza dell'Ara Celi o Coeli, come preferisci perché in varie epoche è cambiata la pronuncia perché appunto nell'antico latino era Coeli dopo di che si è imbastardito col francese con i Galli e quindi quando si espansa l'impero hanno oltre che a Verdato hanno pure assunto anche i latini e quindi hanno corrotto un po' il linguaggio e quindi è una cosa enorme guarda che roba era eccezionale questa è stata costruita ovviamente sulle resta di un tempio pagano che sicuramente era il tempio di Vesta anche lei Nume protettore di Roma come diceva quello che aveva dato fuoco alla testa di un egiziano fuoco di Vesta di Vesta non dire non dire a reggizio ho bruciato la testa allora passiamo di là così facciamo vedere passiamo di là così facciamo vedere una cosa importante passiamo di là va eh allora decidete vedere qui in questa forra in questa forra in questa brughiera in questa ottunda ottunda o se dici ottunda no giusto mai sentito sì ottunda da ottundere sì beh sì in questa ottunda cava 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 lì davanti a noi ci sono i resti della gabbia che conteneva la rappresentazione iconografica del potere di Roma e cioè eccolo là lì c'era dentro quella gabbia la belva la lupa la lupa che si aggirava eccolo qua qua adesso c'è scritto qualcosa lo leggiamo sì il ninfeo di palazzo di Telleschi eccolo qua qua c'era un ninfeo e lì dietro c'erano le ninfe di cui la lupa era un ninfeo non a caso perché c'era una piccola fontana c'era una sorgente come tutte le sorgenti le ninfe proteggevano le sorgenti non a caso i romani erano particolarmente ambientalisti come tutti i popoli antichi e quindi il piccolo monumento è ciò che rimane di una mostra d'acqua situata all'interno del palazzo di famiglia Vitelleschi demolito durante i lavori di isolamento del Campidoglio tra il 1929 e il 1931 collocato ai vieti della rupa capitolina funge lungo il versante nord ovest del colle il ninfeo utilizzava come materiali laterizio e tufo rivestiti in tonaco è costituito da un prospetto organizzato in tre nicchie la mediana doppia rispetto a laterali racchiute in basso una fontana per la raccolta delle acque al centro della scogliera in blocchi di tufo e più in alto alcuni fori di cui scorga l'acqua il disegno composito appare semplice essenziale segnato solamente dalle lusene verticali e da una cornice superiore a fascia liscia poco aggettante eccetera 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 e cosa facevano le ninfe le ninfe del fiume Clitunno cantavano come l'abbiamo chiesto viva la Clitoride o no cantavano le lodi del Dio Giano progenitore delle popolazioni italiane questo è il lato più inaccessibile del colle Campidoglio ricordiamoci sempre che è il colle eh certo bel passaggio eh anche qua da qua si accede ai giardini noi non li abbiamo visti ma nei giardini ci sono i pezzi del colosseo del colosso del colosseo e c'è ci sono i piedri i piedi ecco i piedi sono lunghi come sta la distanza fra i due pilastri è proprio enorme ricordiamocelo che il colosseo il colosso fu distrutto perché vediamo solo dai per costruirci sopra per costruirci sopra per usarlo come calcina come sempre come sempre già era caduto già era caduto in epoca in epoca attorno mi pare il 456 se ricordo bene ci fu un terremoto un terremoto notevole e a cui seguì poi una seconda eruzione in tempo romano in epoca romana del vesuvio 456 con successive dispersioni nell'atmosfera di polviscolo nero di lapillo di polvere fine che oscurarono per 4 o 5 anni tutta la faccia centrale del meridiano attorno al 45esimo per cui in quei 4 o 5 anni sicuramente il raccolto si andò a far benedire e creando così carestie e poi guerre civili lotte ma soprattutto lotte fra poveri per la sopravvivenza e quindi ecco una delle concause che determinarono poi la caduta dell'impero nel 476 e nel 456 ci fu questo terremoto che rase al suolo buona parte dell'Italia centrale tra cui fece cadere anche il Colosseo se ricordo bene il Colosso che poi distrutto e a terra in più parti fu utilizzato dai barberini come dagli altri per produrre calcina invece di rieriggerlo come sarebbe stato logico hanno pensato bene di bruciarlo infatti si dice che distrussero più i barberini che i barbari questo è il teatro Marcello eccolo qua e quello è il quartiere degli ebrei è il ghetto quello è il cosiddetto ghetto che partiva da dietro l'arco di come cavolo si chiama la colonna quella lì l'arco di Giano quella di una donna non mi viene la parola l'Ottavia ah certo quello è l'arco di Ottavia quello là dietro non questo qua davanti quello là dietro si chiama Borgata Ottavia esatto capito e qui c'era il teatro di Marcello che udite udite ancora è abitato da nobili da famiglie nobili eredi delle famiglie dei patani 500 600 e ci abitano tranquillamente alla fascia della proprietà storica dei palazzi che dovrebbe essere del demanio esatto nobili e nobili anche questo è un teatro con i controcazzi è un teatro di Marcello guarda che roba chi era Marcello? eh bisogna vedere i Marcelli erano tanti Marcello secondo è stato uno importante ma era Papa ah ecco i Marcelli sono stati lontani che Marcello poi è un dimitivo di Marcus certo di Marco ecco questi qua dietro sono i giardini del Campidoglio questo è il giardino del Campidoglio dove teatro di Marcello teatro di Marcello acanto la foglia di acanto è questa via di Monte Caprino dove ci fu una celebre rapina ti ricordi? no via di Monte Caprino ah cavolo fu un rapimento incredibile non me lo ricordo per niente e beh i coso Getti Polghetti allora hanno rapito qui il dipotso di Polghetti esatto Polghetti terzo porca madonna che faceva lì? che cazzo ne so lo spevano lì con io qualcosa stava facendo lo rapirono qua ah bello e lo tenerò per tre mesi tagliarono un po' di pezzi quella le orecchie le orecchie le orecchie hai capito? questo proprio non lo sarei immaginato fu un rapimento epocale eh? lì sganciarono ai Calabri almeno 4 miliardi nel 77 75 quegli anni lì 78 ma forse prima anche 76 74 questo è il casino del traffico del traffico di Roma in una qualunque giornata ottobrina in particolare è una giornata come questa questa era la vecchia sede dell'anagrafe romana prima che fosse scissa in 19 o 20 o adesso 15 circoscrizioni locali ecco e qui c'era la sede di vari uffici dell'anagrafe dove la gente veniva a registrarsi questa è una parte della vecchia delle cerchie delle mura serviane queste sono le mura serviane la porta è una porta delle mura serviane non l'ho mai notata ma questa non era una semplice porta era proprio una come quella cosa che abbiamo visto a Arezzo di ricordi dove c'era la chimera ecco dove c'era una porta vera c'era perché attraverso la porta c'era anche probabilmente vedi qua c'era un corpo di guardia c'era un corpo di guardia ma c'era anche un basamento di una statua e sopra era coperto lo vedi che c'era il tetto c'era il tetto guarda che no è qua vieni qua vieni vieni quella è un'altra parte spettacolare bellissima noi eravamo noi prima no 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 eravamo più avanti questa ancora più qua e lì c'è il colonnato romano lo vedi ancora quel palazzo lì è perfettamente conservato molto più ben conservato di tutti gli altri perché era perimetrale era diciamo distaccato rispetto agli altri quindi ha subito una sorta diciamo diversa probabilmente Giorgio probabilmente qui in Epoca Medievale come hanno fatto nell'arco di prima porta l'ultimo arco l'hanno tamponato e ci avevano fatto una casa perché vedi lì c'era probabilmente c'era probabilmente un camino c'era un camino c'erano le mure hanno fatto solo la tamponatura quello che apriva il calcetto esatto ci abitavano una specie di di ma ci trovavano in modo come è rimasto fino a poco tempo fa cammina come case camponiere e quello di affidare a una persona la pulizia di un determinato territorio i controlli certo i controlli dei passaggi a livello in cambio di un'abitazione e di uno stipendio ma magari era una dogana dove si pagava dazio e il dazio in parte rimaneva in tasca a lui in tasca alla famiglia che lo gestiva ma adesso che ci hanno messo qua all'anagrafe ci sono degli uffici perché io ricordo che ci sono venuto recentemente l'anagrafe per quale ragione l'ufficio anagrafe mi ricordo la legislazione stava al primo piano qui viene a pagare le tasse le tasse ah ho capito l'ufficio stava qua al primo piano qui viene a pagare le tasse molte quella è la chiesa di Santa Maria in Cosmedin e lì c'è la cosiddetta bocca della verità quello che in realtà era un tombino della della cloaca massima che come come inghiotti noi aveva quel tipo di mascheroni lì in Cosmedin Questo è il tempio di Castore Polluce oppure quello più indietro, più laterale, quello cosiddetto Tempio di Vesta, in realtà era il Tempio di Ercole, dove noi qualche anno fa siamo andati a partecipare di rito di rifondazione e di consacrazione con relativo albero d'olivo che ancora registrano, ancora siamo andati? Ecco, quello è il Tempio di Vesta o Ercole Capitolino, questo che sembra una pagoda, sembra una... che cosa sembra? Dunque... è ispirato il Tempio di Vesta, invece qui abbiamo... è ispirato a architetture prische, alla capanna etrusca, alla capanna etrusca classica, che era come quella dei pastori che facevano la transumanza fino a 40-50 anni fa, esattamente ripetuta, uguale, perché era estremamente funzionale, l'abbiamo descritta in qualche occasione, la descriveremo più dettagliatamente voi, ecco, qui invece, questo invece è l'arco di Giano, uno può vedere ancora le ricostruzioni dell'agro, dalle parti di Latina Littoria, che c'è, fanno vedere le cabanne dei pastori, esatto... e qui ci avviciniamo a Santa Maria in Cosmedin, che è una chiesa di rito greco ortodosso, ricordiamocelo sempre, dove... ce ne sono due, sì, una è qui e l'altra è qua dietro, qua, all'arco di Giano, quella parte lì, perché? Perché questa è la parte più antica della introduzione della religione, del rito cristiano, della conquista del misticismo romano in opposizione dei pagani e qui c'era la sede, non a caso lì vicino abbiamo visto il ghetto ebraico, perché erano loro che gestivano tutte le varie faccende qua, quindi il ghetto ebraico che è di epoca medievale, diciamo rinascimentale, creato da Paolo V borghese, e però già esistevano lì, erano lì le loro attività, i loro negozi, le loro case, quindi non ha fatto altro che dire tornate a casa la sera col coprifuoco perché se no l'arrodamo, quindi niente di così trascendentale, è una cosa più che legale, giusto? E come l'ha? Qui la più ampia fauna femminile visibile al mondo, guarda qua ci sono coreani, vietnamiti, giapponesi, filippini, danesi, ondureni, cileni, andini e poi ancora... Quota Marchesi! Addirittura! E poi ancora e poi ancora! E poi ancora! Uruguagliani! Uruguaggi! 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 Pagamensi, chiede tutti la fila per infilare la manina! Ci dovrebbe essere uno con una bella mannaia del genere, incominci, fai strike, scusa? Sarebbe bello! Guardate, guardate che fila! Che fila! E viva la fila! Sarebbe bella filare la manna! No, questi sono giapponesi, cinesi no, giapponesi! Si, si vede, soprattutto quella ragazza, quella faccia! Molto bella! Senti! Molto bella! Della sua razza è una persona molto bella! Si! Si è staccato! E sarebbe bello entrare lì dentro, mettere la mano, poi, doc! Poi tirare fuori il mocherino! Leggono il mocherino! Aita! Aita! Sono quasi le 4, andiamo a sentire i tenori lì che cantano... Adesso? È alle 4! Cazzo stai lì! Aspetta, aspetta! Aspetta! Non sei sicuro? Oggi che giorno è? No, oggi non c'è! Ah sì, oggi è 16! Oggi è 16, è vero! Oggi non c'è, oggi non c'è, oggi non c'è!